I maggiori disagi che aveva la comunità sono la mancanza delle comunicazioni, della viabilità. Il ponte ha rotto i sogni di una comunità che da 30 anni ha questa parte. La mancanza di sanità, praticamente non abbiamo neanche una guardia medica più a lungo buco. La mancanza dei servizi, il ridimensionamento scolastico ha tagliato l'ultima delle istituzioni oltre al municipio presente sul nostro territorio. C'è una battaglia in corso anche per quanto riguarda il dimensionamento scolastico da parte delle mamme, dei cittadini, delle istituzioni, dei partiti, delle organizzazioni sindacali e di un comitato civico che sta facendo da trasportatore nelle battaglie per quanto riguarda i nostri diritti. Siamo qui insieme alla popolazione, noi come comitato cittadino, insieme alla popolazione di Longobucco per rivendicare questo diritto che sembra continuare ad essere negato a questa popolazione. Abbiamo bisogno della viabilità perché è un paese ubicato nelle zone interne, per cui per spostarci e soprattutto per i servizi essenziali questo tratto di strada diventa fondamentale. I cittadini vivono una grossa difficoltà perché per raggiungere i primi presidi medici abbiamo bisogno di una strada con una percorrenza più veloce per le scuole, essendo un paese di montagna questa è la necessità di tutta la popolazione. Con la viabilità riusciamo ad avere anche un turismo più sviluppato, qualcuno che deve raggiungere la località di Longobucco tende a non venire più nel nostro paese perché le strade non sono percorribili e non sono sicure. Pristino della problematica che riguarda anche il ponte a monte e la parte a valle. Noi nasciamo dal basso Ione, nel senso siamo il territorio di Mirtocrosia, i longobuchessi che vivono a Mirtocrosia e nella zona circostante che si spostano per Longobucco e hanno costituito il cosiddetto comitato noi viaggiando per Longobucco con il cuore, giorno 24 ottobre del 2023. Abbiamo già proposto all'onorevole Maria Elena Boschi un'interrogazione a risposta immediata per il ministro Salvina al fine di giustificare come mai dopo cinque mesi dal crollo del ponte il territorio montano e distestato dal punto di vista idrogeologico ancora non è stato ricostruito e i lavori sembrano rilento. Richiamiamo che venga ripristinato il decreto che era stato emesso dall'onorevole Renzi nel periodo della sua legislatura, sblocca Italia che era quello che permetteva comunque all'Italia, agli italiani di riuscire ad ottenere dei finanziamenti per intervenire nelle zone a grande distesso di idrogeologico. Sosteniamo la causa di Longobucco perché è necessaria per sviluppare il territorio economicamente, non è solo un problema di emergenza di territorio montano ma è anche un problema di sostegno economico, è un'area che deve congiungere necessariamente il mare, i monti, l'altopiano silano per poter sviluppare il territorio. Il nostro è un territorio a vocazione agricola, a vocazione turistica e a vocazione culturale e congiungendo con una strada le due aree geografiche noi in pochi metri e in pochi chilometri troviamo tutto. Non è solo il sindacato, il sindacato è uno dei promotori di questa iniziativa di stamattina. Siamo qui proprio perché vogliamo parlare con i vertici dell'ANAS per darci delle rassicurazioni o delle informazioni rispetto all'andamento dei lavori sulla strada. Stamattina chiederemo all'ingegnere Caporasso se c'è e penso che ci sia perché siamo stati convocati per le 15 di oggi pomeriggio un cronoprogramma dei lavori perché noi ci stiamo sgolando, siamo dal 3 del mese di marzo che ci stiamo sgolando su questo problema della strada. Non abbiamo avuto rassicurazioni certe, i lavori, il ponte sostanzialmente che è crollato è ancora lì, fermo, non è stato fatto un passo in avanti rispetto a come era determinato. Stamattina noi chiederemo questo cronoprogramma all'ANAS, per questo siamo qui e abbiamo voluto fare questa cosa con un sit-in, con la popolazione di Longbook e non soltanto con rappresentanze che possono essere a livello istituzionale, politico e sindacale. No, la gente deve sapere e deve capire quello che si muove, come si muove e come vanno avanti queste cose. Questa è l'intenzione di quest'oggi. Naturalmente noi valuteremo l'incontro come andrà, quali saranno gli impegni che prenderanno i vertici dell'ANAS e poi dopo ci determineremo non soltanto con una delegazione con un sit-in davanti all'ANAS, ma ci determineremo anche coinvolgendo l'intera popolazione di Longbook e della Vallate del Triondo, perché per noi questa arteria è un'arteria vitale, ne va della nostra sopravvivenza, con tutte le questioni che sono state dette qua e delle aree interne.